Che un deputato della Lega, per il suo tramite, il deputato Crippa, possa dire, vice segretario della Lega, possa dire che è peggio cantare bella ciao che fare il simbolo della decima mass, è una roba che non sta in cielo, né in terra, è una vergogna, dovresti uscire da quest'aula! Grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie.